Quello che è successo oggi, una cosa bella, meravigliosa, che vi farà soltata la gioia. Perito Mussolini, non ci crederete, ma non c'è più! E forse non avete capito, Mussolini non c'è più! La dittatura è finita! E' il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Beh, pazienza. Se non capite nemmeno quello che vorrei dire, allora scusatemi. Potevo risparmi la fatica di venire qui a dirvelo. Sentite! Sentite, brutto paese di subare! Vi piacerebbe sì o no che vi ha finalmente accalci in culo il fascista copero fascista frangucci! Ecco quello che significa! La fine dei fascisti! La fine di copero, di frangucci, di bari e di mezzola! Finalmente dopo vent'anni non mi fanno più imbrugliato la colta della vendemmia! Avete capito imbecilli? Ehi, da palucci! Eccone una! Cosimo frangucci! Beh, che non ha già parlato chiaro, vi invito a prendere a calci il culone di Cosimo frangucci! Ecco quello che sanno basti eroi! È molto caro! Cosimo frangucci!